Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 27 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzzimib. Prima osservazione importante, il secondo T-3 inverso, il supposto secondo T-3 inverso, si è già vincolato a ribasso, ovvero rialzo di indice. Questo significa che, essendo una distanza microscopica rispetto a quello che è il massimo precedente, si rischia che questo T-1 inverso, nella realtà di fatti, fosse un decimo T-3 inverso e che questo undicesimo. Per cui bisognerà vedere se verranno confermati i future che per ora sono a meno, anzi in parità per la Germania e meno 45 punti per l'Italia, ma facciamo attenzione perché questo potrebbe non essere un semplice T-2, ma il T-2 finale di chiusura del settimanale qua, che è arrivato a 8 più 2 giorni. Come vi dicevo, d'estate ci possono portare a spasso perché ci sono pochi volumi, ovvero rialzo, ridiscesa e finta di arrivare sulla media mobile a 200 periodi con chiusura di questo gap. Successivamente ripartenza verso l'alto e vedremo, perché manca poco al fatto che effettivamente rischi di essere questo il decimo e questo lundicesimo T-3, ma c'è sempre una buona notizia. Se voi siete rimasti flat e non avete fatto operazioni particolari perché sinceramente c'erano poche possibilità di andarsi a prendere dei punti con tutta questa lateralità in un training range molto piccolo ieri, siete flat, siete liberi. Per cui se andremo ancora a chiudere qui il settimanale inverso, caspita, essendo a 11 T-3 avete un'informazione fondamentale, sta per partire che cosa? sta per partire un nuovo, il secondo T-1 inverso e quindi ci sarà una bella spinta a ribasso, almeno un paio di giorni, dal top che verrà fatto e sottolineo durate minime. L'altra buona notizia è che avendo tutto quel tempo potete avere anche dei target a ribasso, ok? Però come detto, tutte le volte che proviamo a spingere verso il basso, esattamente come ieri in apertura, guardate, apertura qui, rispinta verso l'alto. La tendenza a salire è fortissima perché, ve lo dico subito, il S&P 500 è uscito da un bear market creato a marzo, in quanti mesi? Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto in cinque mesi? Niente. E' stata una cavalcata straordinaria che ci ha portato ad aggiornare i massimi, per cui cosa stiamo a cercare a fare, cosa stiamo a cercare operazioni short, come quelle della luna su TradingView, quando abbiamo un bear market cancellato in cinque mesi? Se non si ha esperienza, succede questo, di dover andare a mediare in continuazione, perché, eh, si è sbagliata la prima operazione, si è anticipato troppo magari dall'inizio di aprile, lo short, all'inizio di agosto, scusate, lo short, e adesso andiamo a continuare ad aggiornare i massimi, ok? Per cui, facciamo anche un riferimento, un passaggio sul nostro indice, sul Fuzzimib. Anche in questo caso, qui siamo più distanti, qui effettivamente c'è la possibilità di una partenza di un T-1 e non c'è quel rischio così grosso che abbiamo dall'altra parte, anche perché stiamo provando a tornare in Death Cross, ok? La media mobile è molto più vicina, quella 50 la più veloce, a quella 200 più lenta. Per cui qui, interessante di nuovo, se questo rimarrà al top, ma bisogna vedere dopo il 10.01 della mattina, come mai sapete, perché faranno magari finte, come al solito, qui finta ribasso, di nuovo, rialzo fortissimo con volumi, finta di nuovo a prosecuzione di ribasso e poi rialzo, e poi lateralizzazione, ecco. L'importante è che sappiate che qui stiamo chiudendo il T-1, T-2 inverso e che quindi ci può essere spinta per la partenza di un secondo T-2 inverso e quindi qui c'è più possibilità di andare a ribasso rispetto al DAX, anche perché se andiamo a vedere quella che è la situazione in questo caso, vediamo che qui abbiamo avuto una chiusura che è stata al limite del cumo, anche se stiamo provando a rimanere agganciati al livello inferiore, però non stiamo riuscendo a salire sopra la media mobile a 200 periodi. Ok? Direi che per oggi è tutto, quindi su Borsa Italiana ha più senso valutare operazioni a ribasso con target media mobile a 200 periodi per la partenza del secondo T-2 inverso. Su DAX invece fate parecchia attenzione, anche se andasse a farsi il top, andremo a misurare semplicemente la durata del secondo T-3 inverso, che però è arrivato a 24 bar, che è già tranquillamente oltre la durata minima delle 22 candele di inverso, e poi anche in questo caso valutiamo degli short a maggior ragione se andremo sopra questo massimo nel tempo della durata del secondo T-3 inverso. D'accordo? Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata. La mia sarà così perché ho già deciso che la voglio così.